La prefettura di Agrigento ha ordinato lo sgombero del nuovo centro d'accoglienza a Porto Empedocle. Il perché del provvedimento, le reazioni. Irene Milisenda. Il tanto discusso centro d'accoglienza per i minori migranti non accompagnati sorti nel centro cittadino di Porto Empedocle è stato chiuso. Con un provvedimento provvisorio, il prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, ha disposto lo sgombero della struttura che da 14 agosto ospita 44 minori sbarcati ad Agusta, che ha ricevuto parere positivo degli uffici comunali e che invece ad oggi non risulta essere donia ai requisiti richiesti per i centri d'accoglienza. Alla base della decisione che impone lo spostamento o la messa in regola del centro d'accoglienza, ci sarebbe il non rispetto delle norme antigenio all'interno dell'edificio. La sindaca Ida Carmina aveva già evidenziato le carenze della struttura, facendo notare che all'interno non fosse presente una scala antigenio e solo pochi estintori. E ciò ha rischio e pericolo non solo degli ospiti dell'immobile, ma anche per la popolazione, data la collocazione della struttura vicino ad un cinema, un supermercato, una lavanderia e due scuole. Queste le parole della sindaca pentastellata. Le mie preoccupazioni sono state recepite e credo che nel giorno di San Calogero questo sia un segno per tutta la città. La struttura non si presta ad accogliere i migranti. Se fosse divampato un incendio, vi sarebbero stati diversi punti sensibili. Giustizia è stata fatta sia per i giovani migranti che rischiavano la vita che per i cittadini che abitano nella zona. Io non dormivo la notte al pensiero che potesse succedere qualcosa, conclude Carmina. Adesso i 44 minori saranno ospitati nei vari centri d'accoglienza e grigentini e dal canto loro i commercianti non si tirano indietro e continueranno la battaglia che hanno iniziato, scendendo in piazza giorno 9 settembre per una serie di motivi che ci spiega al telefono il portavoce dei commercianti, Alfonso Lazzara. Ha preso la notizia della temporanea sospensione del centro per immigrati minori di Porta Empedocle. Come associazione commercianti confermiamo la manifestazione di sabato 9 per una serie di motivi. A. Per fare in modo che questa sospensione temporanea diventi definitiva. B. Perché la manifestazione è contro una normativa regionale e nazionale che invece di favorire l'immigrazione, favorisce la speculazione e C. In modo da poter anche dare attraverso una normativa più adeguata anche il potere ai territori, ai sindaci di autodeterminarsi. B. E infine affinché si passi veramente dalla speculazione alla vera accoglienza. Perché siamo convinti che i ragazzi di colore e gli estracomunitari devono essere accolti a piccolissimi gruppi e devono essere integrati nelle parrocchie e nelle strutture sociali che ci sono in una città in modo che venga veramente favorita la loro integrazione. D. Affinché si finisca con la speculazione e la mercificazione. I soldi che lo Stato dà per gli immigrati, quelli che ci sono in più, vengano destinate anche alle realtà difficili sociali, tipo disoccupazione, famiglie indigenti e quant'altro. D. Affinché si finisca con la speculazione.